benvenuto nel panorama toscano benvenuto all'argentario golf club un paradiso per i golfisti disegnato da david mezzacane e dal grande baldovino d'assù che hanno saputo dipingere 18 buche par 71 di 6.218 metri un layout comodo per il gioco di tutti intrigante per i professionisti rotondo nel suo insieme ma poi il panorama la laguna orbetello due spaghe allo scogliono via subito il microclima interessante e permette il gioco tutto l'anno ma attenzione la brezza c'è sempre e può impegnare qualche t-shot dall'alto e di secondi colpi difesi da splendidi laghetti ma poi lo senti qua il profumo della natura c'è ovunque poi il mare sulle buche che è un lago perché il mare è di là ma fa nulla fa atmosfera i pendii di monte argentario vi rimarranno nel cuore sono la cornice più elegante che si possa trovare a fianco di ferwi di smeraldo 62 talenti purissimi questa settimana per il senior italian open dove si impara dalle leggende e allora sei con me